Allora Allora, vediamo, vediamo, vediamo Perfetto Cazzo, mi vedo su tre display contemporaneamente Sembra di essere Scodice Swordfish Ok Bene, ci siamo Allora, in teoria Siamo in diretta su Tre canali diversi in contemporanea Instagram Facebook e YouTube Vediamo se Le persone mi confermano 20 utenti su Instagram 43 su YouTube E Facebook non lo vedo perché praticamente qua è tutto Un arrangiamente un po' improvvisato Sono molto contento di questo canale Beh, dai, mi fa piacere Vediamo da Instagram Mi sentite da Instagram? Mi scrivete? Finalmente una diretta Eh sì, lo so Purtroppo Siccome questo periodo qua abbiamo avuto un sacco di casini E io seguo i casini E cioè Sono sempre stato immerso Allora Bene Di qua ci siamo Di qua ci siamo Teoricamente ci siamo Non aspetterei neanche che arrivi qualcun altro perché siamo già praticamente 100 persone E va bene così No, non sono di padua Allora ragazzi Il titolo del diretto di questa sera è E la linea sottile che separa i possibili dagli impossibili Perché ho messo questo titolo qua? Perché oggi mi è capitato di raccontare Un aneddoto ad una persona Che tra l'altro stavo anche scrivendo il videocorso Perché non so se lo sapete ma stiamo preparando un videocorso Molto molto tosto Impegnativo e di altissima qualità Chiaramente Adesso non so dire di quando uscirà Ma però Vi dico che ci stiamo lavorando Giorno e notte E l'aneddoto è questo Quando ero in seconda superiore In sostanza si faceva il torneo di basket dell'istituto Il torneo di basket dell'istituto Che sostanzialmente prevedeva che ogni classe Avesse la sua squadra E due lava con altre classi Eccetera 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 E allora come è andato questo torneo qua? Abbiamo passato la fase gironi Abbiamo passato gli ottavi di finale Abbiamo passato il quarto di finale Abbiamo passato la semifinale E siamo arrivati in finale Ora chi mi conosce direbbe Ma dai ma il basket non è il tuo sport no? Perché chiaramente le persone normali Pensano Eh ma per giocare a basket Devi essere alto due metri Devi essere alto un metro e novanta Tra l'altro Piccola nota Tra i nostri studenti abbiamo anche un giocatore di basket Abbastanza rinomato Che non cito ovviamente Ma che ha già fatto il corso con noi Allora arriviamo in finale Cosa succede? Questa squadra qua era molto tosta E eravamo sempre in svantaggio Di un po' di punti Non di tanti punti Però insomma eravamo sempre sotto Siamo verso il finale E riesco a prendere la palla In contropiede Salto via tutti i giocatori In velocità Vado a piazzare il canestro da due punti E arriviamo sotto di un punto Qual è il problema? Il problema è che Ma non c'è tempo Non c'è più tempo E tra l'altro anche durante la partita Ora ha anche rischiato l'espulsione Non perché avessi fatto chissà quale fallo Avessi avuto chissà quale comportamento Disgustoso o quant'altro Ma Semplicemente un giocatore dell'altra squadra Mi aveva messo le mani sul collo E l'adito voleva speglierci entrambi Ma come ho detto Scusami Non manderei via lui? Non vuoi mandare via me? Che non ho fatto niente Vabbè Insomma arriviamo a Arriviamo a pochi minuti dal termine E dico Ok adesso devo praticamente Andarmi a prendere la palla un'altra volta E devo fare un altro canestro Se voglio vincere il torneo Assieme alla mia squadra Vado in un contrasto Prendo la palla E mi imbatto verso Quella che era L'area di rigore avversaria Per andare a canestro Ma arrivo praticamente A metà campo Guardo il tabellone dei numeri Del tempo Lo guardo e dico Cazzo ma Non ce la farò mai Ad arrivare dall'altra parte Impossibile Cioè non avevo più tempo E davanti a me avevo Tutti i giocatori L'altra squadra Addosso Cioè praticamente Tutti con le mani alte Così Ad ostacolarmi Per Per Proibirmi di andare avanti E quindi non sapevo più cosa fare Allora Cosa ho pensato In quel momento là In quel momento là Ho pensato Che l'unica alternativa Fosse quella Di provare un tiro Da centro campo Ora se una persona Pensa Di poter fare Un tiro Da centro campo E già E disegnarlo anche Dice Cazzo ma E anche difficile Arrivarci Al canestro Da centro campo Avevo 16 anni All'epoca E ho detto Vabbè Ascoltami Io lo vedo Che va dentro E E così Cosa ho fatto Ho preso E ho lanciato il pallone Alla massima energia Che potevo Chiaramente Cercando anche Di mantenere La mira precisa Il pallone È volato Praticamente Per tutta La metà campo Saltando via Tutti i giocatori Avversari Che mi Cercavano di Ostruire In tutti i modi Ci eravano tutti addosso Come fosse Uno scheramento Di un esercito E Cosa è successo Che il pallone È proprio Arrivato sul canestro Ha rimbalzato Tatatatatatatatata E è andato Andranto dentro E lì C'è stato Praticamente Sorpasso Sulla squadra Avversaria A tempo Praticamente Quasi scaduto C'erano Ancora Pochi secondi E Da lì Poi La squadra Ha vinto la partita E I miei compagni di classe all'epoca hanno deciso che io tenessi a coppa. Questo aneddoto cosa serve per dire? Questo aneddoto praticamente va a mostrare la differenza tra se pensi che tutto sia impossibile o se pensi che una cosa sia impossibile e se pensi che la stessa cosa sia possibile. Spesso accade che i ragazzi non credono ai risultati che ottengono gli studenti così come non credono che conoscere donne di giorno sia possibile così come non credono che riuscire a portare una ragazza dalla chat al primo appuntamento eccetera eccetera sia possibile. Però al tempo stesso ci sono persone che ce la fanno. Quindi dove sta il problema? Il problema sta nella mente di una persona. E se tu realizzi che quella cosa non è possibile, effettivamente sarà impossibile. Ma quante persone hanno mai pensato che io potessi riuscire a siglare un canestro da tre punti praticamente sugli ultimi secondi da centro campo? Cioè quante persone hanno pensato che ciò fosse possibile? Secondo me nessuna. Ok? Però io nella mia testa l'avevo realizzata questa cosa qua. Cioè lo stavo già visualizzando. Quindi allo stesso identico modo deve fare un ragazzo che parte da zero, non ha mai realizzato una conversazione con una sconosciuta in strada, in discoteca, in libreria, in centro commerciale, quel che è, e deve riuscire a sfatare questo mito nella sua mente. Se tu non visualizzi mai la situazione positiva, come puoi fare, cioè come fa ad avverarsi questa situazione qua, è del tutto impossibile, è irrealizzabile. Perché? Perché già nella tua testa è irrealizzabile. Devi renderla possibile all'interno della tua mente se vuoi poi realizzarla al lato pratico. Così come tantissimi ragazzi che ottengono rifiuti continui dalle ragazze, perché chiaramente all'inizio mica è facile, c'è qualcosa che non hai mai fatto, non hai mai visto fare da nessuno, nessuno ti ha mai detto come si fa e tu lo devi fare. Quindi di conseguenza non hai un esempio, un riferimento, un'esperienza positiva e tu devi crearti questa esperienza positiva, che poi va a sfatare quella credenza depotenziante, negativa, irrealizzabile e quant'altro e diventa il tuo riferimento positivo, diventa quello che ti nutre ogni giorno, diventa quello che ti dà la possibilità di pensare che tutto ciò è possibile, è realizzabile, è fattibile. Allora, ciò che dovete fare è praticamente un lavoro sulla vostra mente, dovete visualizzarvi i successi, dovete visualizzarvi scenari positivi, ma in qualsiasi ambito, non solo con le ragazze, non so, abbiamo tanti studenti che ci seguono soprattutto su Instagram che hanno più o meno 18 anni, bene, abituati a visualizzare scenari positivi di successo, bene, devi affrontare un compito a scuola, una verifica e quant'altro, cazzo, abituati a vedere quel risultato positivo nella tua testa, ma io lo facevo sempre a scuola, mica sognavo o realizzavo nella mia testa di arrivare alla non sufficienza o al 5, 4, 3, quel cavolo che era, devi realizzare nella tua testa di poter raggiungere almeno quel risultato che sai essere soddisfacente, ma io direi anche di più, puntate al massimo, non dovete sempre puntare al minimo sindacabile, dovete puntare ai vertici. Idem, che ne so, per persone che spesso ci seguono e dicono ok, io ho sempre avuto un ragazzo, ho sempre avuto fidanzate, ma non ho mai avuto una che mi piacesse veramente. Mi sono sempre accontentato, mi sono seduto, perché comunque non riuscivo a trovare quella che mi piaceva, oppure se trovavo quella che mi piaceva, questa non mi dava corda, non mi lasciava il numero, non mi cagava, eccetera, eccetera, e quindi ho lasciato perdere. Eh, ma anche qua è sbagliato. Nella tua testa hai visualizzato lo scenario in cui tu sei a fianco di una bella ragazza che è proprio quella che tu volevi? No, ok? E questo esercizio qua, questa visualizzazione dello scenario di successo non deve esserci una volta, non deve esserci due volte o da lunedì al mercoledì, ma deve esserci ogni volta. Ed è così che si sviluppa un'abitudine e così si va a pensare costantemente e si va a nutrire realmente con un scenario di successo. Perché la maggior parte delle persone pensa o che ci sarà un insuccesso, oppure pensa di non farci, oppure pensa che non è possibile, oppure pensa che non è fattibile, nessuno ci ha mai fatta, allora anche io non ce la farò. Ma non è che se i tuoi amici si sono fidanzati tutti con ragazze discrete, diciamo così, della porta accanto, del paese, eccetera, eccetera, tu debba fare altrettanto. No, le possibilità ci sono, ma devi essere tu che te le crei. E per crearti le possibilità, al lato pratico, devi prima createne la tua mente. Ok? Quindi devo proprio cambiare completamente l'approccio mentale che io ho verso una determinata situazione. E così si va praticamente a transitare dall'impossibile al possibile. Prima devo realizzare tutte le situazioni all'interno della mia testa. Ok? Quindi se io sono disperato in chat perché non ho mai avuto successo, è chiaro che devo avere anche dei metodi operativi. Ok? Ma devo avere anche una sorta di immaginazione verso il scenario di successo. Così come in discoteca. Non posso avere sempre scenari macabri nella mia testa dell'insuccesso, della ragazza che mi rifiuta, della ragazza che mi manda via. Devo cambiare completamente i miei schemi mentali. Solo nutriendo la mia testa con scenari positivi posso andare a creare gli stessi scenari nella realtà. Ok? Questo è praticamente un aneddoto a cui ho pensato oggi che ho raccontato oggi e che tra l'altro ho trattato anche nel video corso che sto scrivendo e che volevo raccontare in una breve diretta visto che tra l'altro era una vita che non facevo una diretta. Uno perché non avevo device. Adesso ho praticamente tre device e due perché non c'avevo tempo. Ok ragazzi? Come fate per la parte di live? Aspetta un attimo perché qua siete in tanti e non capisco più da dove scrivete. Allora rispondi anche alle nostre risposte ma non le vedevo. definisci stimolare ma stimolare cosa? Se mi dici cosa stimolare sei troppo per le lunghe senza stimolare continuamente ragazzi se avete domande se no io chiudo tutti quanti i device ok nessuno più batte sulla tastiera nessuno più che scrive spengo tutto? Spengo tutto? Allora guarda cosa fare con una ragazza che non mi cerca più? Io ho già i miglioramenti domanda come iniziare? Come si fa? Vabbè ma domande pertinenti no non sono single domande pertinenti all'argomento se è un uomo o un handicap cosa si fa? Questo dipende sempre da che handicap è io consiglio sempre il chat comunque mi scrive il mio team che c'è qualcosa di urgente quindi per forza di cose devo purtroppo staccare ragazzi è stato un piacere come sempre mi scrivono che è urgente quindi devo andare a rispondere ok ok